Siamo alla seconda edizione della Color Rap nel 2016, quest'anno il meteo ci ha graziato e abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci di fare. Questo è un risultato speciale, speciale perché è gratificante, permette anche a noi amministratori di avere ancora la forza e la voglia di continuare a fare tante belle iniziative, soprattutto per i giovani. Il mio desiderio è quello che anche l'Appennino venga visto come una riviera e quindi capire che anche in Appennino e in montagna ci si può divertire, come al mare. So I can go until they close up and I can drink until I'm close up and I don't ever ever want to cry. Dove sono le mani con la bambina? Ciao sono Luca Patuzzi, la festa sta procedendo molto bene, siamo oltre le mille presenze, il tempo regge quest'anno grazie a Dio. Siamo, niente, proseguiamo fino a sera con musica, crescentine, gnocco fritto e si balla fino alle 22. Ringraziamo sicuramente la Prologo che è l'organizzatore ufficiale della festa, il sindaco di Montecreto e tutti gli sposo che ci hanno aiutato a sostenere questa festa. Ciao a tutti, buonasera, siamo alla Color Up Montecreto, abbiamo raggiunto i 1200 iscritti, seconda edizione 2016. Guardate, guardate come siamo messi, direi che il tempo quest'anno ci ha aiutato, ce l'abbiamo fatta, 1200 iscritti, che dire, è incredibile, l'appuntamento è già il prossimo anno, speriamo di ripetere, buona estate a tutti. «Sell'italo Montecreto!» «Sell'italo Montecreto!» Grazie a tutti.